Io, una cosa che non capisco di voi, la legge per me è una corcheria, macelleria sociale, fatta dall'Unione Europea, utilizzando voi il prestando dei molti. Questa è la mia idea. Per quale motivo voi vi alleate con gente che quella legge per me è valutata? Uno, questo è il concetto. Perché questo per me, io non mi alleerei mai con qualcuno appunto che penso che sia responsabile di una legge per me come la legge per me. Per quanto riguarda me, fermo restando che per me questa storia che i cittadini non possano scegliere, informarsi e decidere su questioni importanti, è una veramente qualcosa che io diciamo. Se ci fate caso su Brexit è successo qualcosa di incredibilmente vergognoso. Alcuni nomi in Apolitano, che per me poi è uno dei massimi responsabili della distruzione di questo Paese, uno dei massimi responsabili da negli 80 anni e 50 anni. la politica, molti, per me, molti, chiari, persone che si sono scandalizzate non tanto per il risultato della Brexit, Franco, ma per avere in detto un referendum come se il popoluccio fosse utile soltanto a votare, a mettere una X, una volta ogni cinque anni a tutto quello che decidono loro. Cioè per costoro democrazia è quando la decisione popolare coincide con gli interessi dell'establishment o con quello che pensa l'establishment. Altrimenti se non coincide si tratta di populismo, demagogia, voto di rabbia o voto di protesta. E a coloro che pensano, ma ti pare che noi dei cittadini possiamo prendere delle decisioni così importanti e invece lo comprende che a spada le decisioni così importanti. Scusate. Io quindi penso Franco. E poi se questo siamo d'accordo con la Lega, perché noi alle volte con la Lega votiamo dei provvedimenti. Insieme alla Lega abbiamo votato contro gli svuotacarceri, perché per me non occorre svuotare i carceri, ci sono dei delinquenti. Nel caso si costruisce un'altra galera, non è che li svuoti. Con la sinistra abbiamo votato a favore della repubblicizzazione dell'acqua pubblica, perché per me l'acqua non può essere qualcosa sul quale ci faccia profitto. Questo è il movimento. Noi valutiamo qualsiasi proposta che arriva dalla Lega o dalle altre parti e se sono utili, poi magari non possiamo sbagliare, utili per l'interesse nazionale, le votiamo. Sull'euro, io, questa è la mia posizione, ma noi abbiamo raccolto delle firme, sono convinto che avere una moneta propria, una banca pubblica che possa stampare moneta, rappresenti appunto un'arma importante in base ai governi per fare politiche fiscali, valutari e monetari, cosa che non è più possibile fare da quando non c'è di fatto una banca pubblica, perché Banca d'Italia di fatto è controllata dagli istituti privati, cioè il controllore che è controllato dai controllati e non abbiamo più una nostra moneta. Questa è la mia visione, però un referendum, anche consultivo, c'è stato in Gran Bretagna, serve a creare un'opinione da parte di tutta l'opinione pubblica che studierà una questione negli isti precedenti e poi prenderà una decisione, cosa che dovrebbe essere qualcosa di normale. Per me, Alessandro Di Battista, l'euro non è una moneta ma un sistema di governo attraverso il quale delle banche centrali, banchieri non eletti da nessuno, che gestiscono la vita a 400 milioni di europei, stanno di fatto avendo in mano le politiche economiche, fiscali, valutari e monetari degli Stati che non sono più sovrani e che continuano, nonostante i popoli richiedano maggiore disponibilità a partecipare, stanno di fatto continuando a cedere all'Unione Europea centrale in fette di sovranità. a me questo non mi sta bene.